Per prima cosa apriamo Untitled Project per creare un progetto nuovo, Open. Notiamo che DaVinci è composto da diverse pagine che si trovano dalla pulsantiera sottostante. Scegliamo la pagina Edit, perché per prima cosa dobbiamo creare una timeline qui, con il tasto destro del mouse, scegliamo Timeline, Create New Timeline. Diamo un titolo, ovviamente, e la timeline è la linea del tempo all'interno della quale noi effettueremo la registrazione. Non facciamo la registrazione da questa pagina, cioè della pagina Edit, ma ci richiamo, vedete, dove c'è l'icona della nota musicale in Firelight, che è la pagina dell'editing audio. Abbiamo dato un nome alla traccia audio e notate che ne abbiamo due. La traccia bassa è quella di uscita, perché noi potremmo avere numerose tracce audio, per la voce, per la musica e così via, e poi tutte escono nella traccia bassa. Le tracce audio sono regolate dal mixer, quindi vedete, per esempio, i volumi delle tracce sono distinti. Il volume della traccia bassa poi sarà quello finale, che raccoglierà tutte le registrazioni. Per adesso, però, ci interessa solo la traccia registrazione, l'unica che abbiamo. Che cosa facciamo per avviare la registrazione? Prima di tutto, dal mixer, evidenziamo la traccia registrazione e dobbiamo indicare attraverso la sezione input, così, la sezione input, dobbiamo indicarvi da quale microfono arriverà la voce. In questo caso, questo nome strano significa che ho una scheda che è collegata al computer. Quindi seleziono il microfono o la scheda, poi seleziono l'uscita, che è la traccia ovviamente di registrazione. Ecco perché abbiamo dato un nome a questa traccia, perché potremmo anche averne diverse. E poi stabiliamo il patch. Uniamo il microfono alla traccia di registrazione stabilita. Fatto questo, dobbiamo armare la traccia, cioè predisporla per la registrazione. Dire alla traccia, guarda che sei proprio tu che devi ricevere la mia voce. Quindi vedete questo pulsantino R? Bene, lo attiviamo. La traccia è armata. E adesso avviamo la registrazione. Pronto, buongiorno a tutti, penso che stiate bene. Spero che questa piccola dimostrazione vi serva, grazie. Stop. Quindi abbiamo svolto la registrazione armando la traccia, poi col pulsante REC ovviamente, e poi con lo stop l'abbiamo fermata. Abbiamo deselezionato il tasto R, quindi abbiamo riportato la traccia alla sua condizione originale. Abbiamo svolto la nostra registrazione, quindi con il tasto destro del mouse facciamo due cose per completare quello che abbiamo fatto. Normalize audio level, cioè normalizziamo il livello audio. Normalmente stiamo tra i meno 9 e i meno 3 decibel. Attraverso la normalizzazione porterà il picco del volume entro questi dati. Questo è importante perché i volumi devono essere all'interno di un certo range. Poi sempre con il tasto destro del mouse scegliamo Clip Attribute. Clip Attribute perché vogliamo che la nostra traccia sia stereo, però in questo caso io ho registrato su un canale solo. È facile distinguere se avete registrato in modo stereo o mono, perché con le cuffie voi sentirete se la voce è centrale, quindi la udite da tutte e due le orecchie, oppure da una sola. Se la registrazione è mono, anche se la traccia è stereo, fate questa operazione, cioè dite che il canale di registrazione che è uno, sarà duplicato sui due canali di uscita. Tutto lì, Embed Channel 1 andrà su left e lo stesso Embed Channel 1 andrà su right. Avete una bella trasmissione stereo. Fatto questo avete concluso. Se volete realizzare un editing, cioè tagliare delle parti, procedete in questo modo. Guardate questi pulsanti che vi consentono di allargare la visualizzazione della traccia, oppure agite con questo pispolino. E non so, poniamo che vogliate tagliare questa parte, che è sbagliata, non lo so, per qualsiasi motivo. Dalla tastiera del computer premete il tasto B, tasto B che significa Blade, lama, spada. Tagliate l'intervallo che volete sopprimere, poi con il tasto A, sempre dalla tastiera, trasformate Blade in How, cioè freccia. E quindi selezionate il pezzo e poi semplicemente con il tasto di cancellazione della tastiera lo eliminate. E poi selezionate questa parte, è vuota, e con il tasto destro del mouse scegliete Ripple Delete. E quindi tutto quello che avete registrato alla destra scorrerà per agganciarsi alla parte sinistra. Oppure lo fate manualmente, prendete il clip rimanente e lo agganciate al punto in cui volete che venga collegato. Però in questo caso poi dovete fare, se avete tanti tagli, dovete fare uno per volta. Altrimenti, ripeto, selezionate lo spazio vuoto Ripple Delete e il giochetto è fatto. Poi vedete qui potete sfumare, naturalmente ci sono un sacco di cose tecniche interessanti che però non fanno parte adesso del nostro corso e questo vi serve giusto per avere un primo approccio. Bene, svolte queste operazioni chiaramente dovete uscire con un mp3, quindi andate all'ultima pagina di Da Vinci, cioè il Deliver, che però non è Just Eat, non vi porta da mangiare, ma vi consente di trasformare la vostra registrazione in un file mp3 da poi caricare sul vostro podcast. È molto semplice, attribuite un nome, stabilite dove il file deve essere collocato. Dato che per default Da Vinci pensa che voi vogliate realizzare un film, vi propone anche di esportare proprio questo file come video, ma voi non volete un video, quindi deselezionate la scelta di esportazione video, scegliete la scheda audio, il formato sarà un mp3, quindi controllate che sia mp3 il formato, mp3 il codec, qui va tutto bene, bass, eccetera, e poi pulsante Add to Render Queue, che sarebbe questa. E voilà, voi avete la vostra registrazione mp3 che sarà collocata dove avete desiderato che sia. Questo per il momento, per Da Vinci è tutto, poi ci occuperemo di vedere qualche effetto di equalizzazione per togliere e cancellare il rumore, cose leggermente più sofisticate per chi poi un domani volesse continuare a utilizzare questa applicazione per le sue registrazioni.